Allora, mettetemi in questa questione di sforzo. So, if it's difficult, it's difficult. And it's not a competition, so you don't have to be looking around who's doing what and who can't and all of that. If you can do it, that's great. If it's very... sorry. Mi hanno conto che è un po' difficile, però riuscite a... è difficile. Fate quello che riuscite a fare. Non è una gara, quindi non ricordate il film e vedevo che io ce la faccio, e io ce la faccio, e io ce la faccio. If it's a bit difficult, you may find that putting, you know, one of the cushions under your heels might give you a bit more ease with the knees or whatever. But anyway, this is like this. Se pensate di non farcela, potete utilizzare un cuscino sotto i talloni. Potrebbe essere un po' più confortevole per le ginocchia, magari. In the third world, this is how they make for the buses, more or less. If they don't have benches. Nel terzo mondo, questo è il modo in cui aspettano l'auranos, per esempio. No, I'm serious. No, 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 è serio, è serio. Puoi se solide. This is how they make, ok? So, very good for the immune system. Because you have two big lymph pumps in the area of your hips, and they get activated when you come like this. And it brings you into your body. And it brings you into your body. You're very present about your body. And you're very present about your body. I mean, the head starts to slow down. So, stretching, so the back leg is straight, the front knee is bent. So, stretching, so the back leg is straight. Relaxing the shoulders. Relaxing the shoulders. So, like that. So, like that. To the other side. So, like that. So, like that. And then, doing this, doing this for coordination. Nervous system. You can smile while it's in this. Some of your... Some of your... You're like... It's not yesterday. It's not yesterday. It's not yesterday. It's not yesterday. It's because of the time. The time. It's a time factor. Right. relax the jaw, relax the jaw alright, and then back down again hallelujah then with your same, you know, you're in a shiatsu program here so at least working with you can take your thumb and you can press here at the, in the eyelids which is the beginning of the bladder meridian right here and relax the jaw and let them go in the belly and then slowly up and then slowly up spalle rilassate alcuni di voi sono un po' troppo in alto schiena dritta, non troppo in alto l'emphasia è sulla gamba posteriore e anche sul pallone rilassate le marcelle spalle spalle e spalle e spalle e spalle E adesso facciamo un po' dei soggetti che penso vi siano familiari, non riusciate. Allora, guarda un po' un'altra seconda, lo Shatsu ha che faremo il corpo. A volte dico delle cose un po' obbiettivo, il cielo è stesso di noi, la terra sta sotto di noi. Ok? Dico cose abbastanza obbiettivi. E proprio perché lavoriamo con il corpo, dovremmo essere creato di cercare di entrare nel nostro corpo. Quindi creare un contatto con il nostro corpo. E anche sentirci a casa nostra nel nostro corpo. è di sentirci in un ambiente confortevole all'interno del nostro corpo. perché se intendiamo trappare qualcuno, il corpo… E quindi cerchiamo di sentirci confortevoli a casa nostra in questo spazio che chiamiamo il nostro corpo. Quindi facendo questi esercizi cerchiamo di entrare in questo atteggiamento mentale, di conoscere, entrare in contatto con questo corpo dal quale io sto lavorando. mi arriva questo, molto importante. Perché molto spesso la dimensione da cui intendiamo lavorare è una dimensione di volontà, di dominazione, e di potere. Io lavoro da questo corpo. Ok? Però questo c'è, però non è l'attitudine, l'atteggiamento che io voglio utilizzare. Ho un carino di considerazione. Per questo vi dico rilassate le macelle, so che vedete, ok? Abbracciate il vostro corpo, ok? Grazie. Grazie.